Insegnare al randur di bella al falano studre lendo il cuore Ma gli alanda raffa l'arruo a malattur bella Un'izzare l'andur di bella al falano studre lendo il cuore Ma gli alanda raffa l'arruo a malattur bella Un'izzare l'andur di bella al falano studre lendo il cuore Ma gli alanda raffa l'arruo a malattur bella al falano studre lendo il cuore Un'izzare l'andur di bella al falano studre lendo il cuore Un'izzare l'andur di bella al falano studre lendo il cuore Un'izzare l'andur di bella al falano studre lendo il cuore Un'izzare l'andur di bella al falano studre lendo il cuore Un'izzare l'andur di bella al falano studre lendo il cuore Un'izzare l'andur di bella al falano studre lendo il cuore Un'izzare l'andur di bella al falano studre lendo Un'izzare l'andur di bella al falano studre lendo Un'izzare l'andur di bella nel cuore I do believe that it's possible There's so many wonderful, incredible philanthropists out there Who care And I'm looking for a kind of more holistic approach Going through different alternative processes For eliminating the cancer And this is something they offer here in Germany it's very special and so I am asking the world to help support the best of their ability peace